Siamo soddisfatti nel senso che questa, come sempre, è scontato dire che c'è più da 0 a 1 che da 1 a 100 quindi la partenza, l'avvio di qualsiasi impresa, avventura, manifestazione ha bisogno poi di qualche rodaggio però siamo complessivamente contenti più che altro appunto di aver potuto far ascoltare le 24 canzoni in concorso con la maggiore qualità possibile, con le illustrazioni di Mario e di Duccio Forzano con il nostro stare un passo indietro proprio perché comunque sempre di festival parliamo e sempre di canzoni. L'obiettivo del popolar nazionale mi sembra per il momento mantenuto, raggiunto, al di là dei numeri che sono interessantissimi però c'è questa sensazione che nell'insieme il progetto abbia avuto un buon battesimo.